Appuntamento infrasettimanale all'Ippodomo di Varese, con la tradizionale edizione del Memorial Air Molly, il primo di due handicap principali riservato ai miler, con 8 cavalli al via. Far i puntati su Jar Jar Binks, già protagonista sul circuito prealpino la scorsa stagione, con la vittoria nel Novella e il secondo posto nel Borghi, sempre in coppia con la Joquette Sara del Fabbro. Sei le corse in programma, tre sulla pista in erbe e tre in sabbia, i premi dedicati a grandi pittori, tra cui spiccano l'Andrea Mantegna, riservato ai velocisti sulla distanza del chilometro secco, e il Sandro Botticelli, sul doppio chilometro allungato.